Nel dodicesimo giorno di guerra l'assedio si fa sempre più pesante ed è arrivato tra i palazzi alla periferia della capitale ucraina, mentre i danni alle infrastrutture ammontano già 10 miliardi e i profughi sono più di 1 milione 700 mila. Distrutte Buccia, Hostomel, Wurzel. Colpito dai russi è morto il sindaco di Gostomel, cittadina vicino a Kiev, sede dell'aeroporto strategico Antonov. Nel bombardamento vicino a un panificio nei presidi Kiev sono morte 13 persone. La prima linea russa Kiev si trova a circa 20 chilometri dal centro. I tank hanno iniziato a posizionarsi in un'area densamente popolata verso Irpin, distretto settentrionale. In vista dell'avanzata russa a Leopoli ci si addestra all'uso delle armi in quello che era un cinema. Mentre la speranza si grappa all'annuncio del primo incontro di alto livello tra le parti belligeranti giovedì in Turchia ad Antaglia.